Quindi la prima cosa che noi vediamo in questo caso è sempre la soluzione, è sempre la risposta che cercavamo alla domanda, quindi vediamo sempre la luce, possiamo anche non coinvolgere la logica, perché la prima cosa importante è quella di vedere la luce, quindi percepire questa luce della soluzione. Niente ci interessa così tanto come questo orizzonte infinito che contiene le risposte, quindi a tutto questo orizzonte infinito, in cui sono tutti infinitamente sviluppati, quindi è la cosa più interessante per noi. E in quell'orizzonte degli eventi noi troviamo noi stessi, troviamo me stesso, il nostro io, troviamo i nostri eventi. Per ogni domanda, che ha avuto le risposte, le risposte, le risposte, le risposte, le risposte, la risposte, le risposte, le risposte, la risposte, le risposte ma non concentrating su questo, l'amico che fatto è possibile trovareắc quando ci si preoccupa. E quindi per qualsiasi questione, per qualsiasi, per esempio, anche affare, anche se riguarda una malattia o una questione non risolta, il lavoro, eccetera, noi dobbiamo arrivare, giungere a questo orizzonte e vedere la luce della soluzione in quell'orizzonte. Sì, vi appareggiate l'opportunità, 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 vi appareggiate l'opportunità, vi attraverete l'opportunità e lo attraverete. Così noi sorpassiamo qualsiasi informazione potenzialmente negativa, anche qualsiasi informazione di una diagnosi, siamo più rapidi di questa informazione, perché noi riusciamo a concentrarci su questo spazio dell'eternità. Quindi è molto importante non stancarci di essere felici. Sì, sicuramente ci saranno i periodi quando non ci sentiamo bene, oppure ci sentiamo tristi, eccetera, però è molto importante trattenere questa concentrazione, perché così nasce una tranquillità, una calma dentro e noi sappiamo, vediamo la soluzione, sappiamo della soluzione.